Aspetta, aspetta la cadiva, ma fuori te, cava! Attenza Marti, ora lavora bene. Metti fuori, svoli, svoli! Chiudi le gambe, chiudi le gambe! Marti, di nuovo, Marti, di nuovo come prima, non fa un tempo! Stai attenta! Sei lì, sei lì! Atleta che... No, no! 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 E tira su a casaccia quella lì! No! No! Ma come... Oh! Oh! Cristian! Oh! Ma... Ma qual è? Perché l'anno su a casaccia, vedete? Ma... Tira, Marti! Oh! Vai, Marti! Vai, vai! Vai! Stai a fare male! Dai, 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 dai! 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 Allunga, Marti! Allunga! 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 Dai, Marti! Ma no! Ma dai! E non si può fare questa cosa! Vai ora! Ora! Ma dai, Cristian! Facciamo fuori! E dai, oh! Rosso! Rosso! E dai, oh! Rosso! 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 Marti, occhio ora! Stai attenta, devi essere velocissima! Velocissima! Vai a chimono! Vai a chimono! Vai a chimono! Vai Marti! Marti! Marti, occhio! ... 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 Grazie a tutti.